Stadio Nuova Arredo Arena di Francavilla, Fontana, provincia di Brindisi, campo piccolo, stretto in erba sintetica. Qui la Virtus Francavilla ha conquistato 14 punti dei 16 in classifica. L'ex Colombo rilancia Crescensi in difesa al posto di Milani. Palmiero in cabina di regia con Craia, Mezzala, Delemona che in attacco nel tridente completato da Lescano e Tupta. 53 tifosi al seguito, Cuppone parte inizialmente dalla panchina. Calabro torna alla difesa a 3-3-5-2 davanti. Naturalmente Maiorino e Pattierno, c'è questo primo calcio d'angolo in favore del Pescara. Il tentativo di Mora che poi ci riprova ma non inquadra lo specchio della porta. Subito impressione il Pescara come qualche settimana fa, la sua caratteristica peculiare. Però qui perde palla a Crescenza all'undicesimo minuto al primo affondo. Il cross di Macca si addormenta. Cancellotti viene bruciato da Cassio Cardoselli che infila il portiere Pizzari. 1-0 Virtus Francavilla all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo. Il classe 98 ha già segnato al Pescara nel 2020, 27 dicembre 2020, due anni fa con la maglia dell'Entella. Il primo e unico gol in Serie B. Rivediamo la instirata. Cardoselli riesce a bruciare e anticipare il suo diripettaio. Vale a dire Cancellotti che doveva essere sicuramente più reattivo e più attento. L'esultanza di Cardoselli, ripetiamo, classe 98, Scuola, Lazio. 1-0 Virtus Francavilla. Poi ancora la formazione pugliese che ci riprova con questo sinistro di Maiorino. Classe 89, la palla sfila a lato. Però era già stato battezzato fuori il tiro dall'estremo difensore del Pescara, Pizzari. Il Pescara comunque reagisce immediatamente. C'è questa occasione per Craia che non inquadra lo specchio da posizione direi molto favorevole sul ponte, sulla torre di Crescenzi. Poi il recupero palla alto del Pescara con Crescenzi che riesce a servire tutta il suo destro attentissimo. Reattivo sul primo palo Avella classe 2000, Avella ex portiere dell'Ancona lo scorso anno con Colavitto in panchina. Siamo al 29esimo. Ancora Pescara che attacca questo destro fuori misura di Craia. Craia che ha giocato oggi nel ruolo di Mezzala. Poi quando è uscito naturalmente Palmiero il Pescara ha giocato a 2, 4-2-3-1, 4-2-4 che dir si voglia nel secondo tempo. Poi Cancellotti, la grande fuga sulla destra, sfonda, poi il portiere smanaccia, pasticcia, si complica la vita. È l'occasione gigantesca, sprecata da Mora senza portiere. Praticamente c'erano tre giocatori davanti, non riesce neanche a prendere la porta il capitano della Pescara. Può capitare anche ai migliori. Sul calcio d'angolo al 45esimo, al secondo vero affondo della Virtus Francavilla, Boben si eclissa sul calcio d'angolo battuto da Maiorino. Il colpo di testa, il perentorio colpo di testa del numero 5, Cardoselli. Ancora lui, una splendida serata perché poi metterà lo zampino anche sul terzo gol. 2-0 Virtus Francavilla. Rivedremo tra pochissimo il calcio d'angolo battuto da Maiorino, il colpo di testa di Cassio Cardoselli. Guardate, si eclissa Boben che non va neanche a disturbare il giocatore della Virtus Francavilla, scusate, ex Entella, Cassio Cardoselli, che segna il 2-0. Siamo nel secondo tempo, al 53esimo, questa conclusione sul calcio franco di Palmiero con la palla che termina altissima sopra la porta difesa da Avella. Poi il numero 17 caporale, la discesa, il cross, palla in mezzo, la respinta, Maiorino, la finta, sinistro, palo clamoroso della Virtus Francavilla. Ad un passo dal 3-0 con il suo fantasista, il classe 89, Maiorino, che a lungo è stato inseguito in estate dal club Biancazzurro. L'ha allenato lo stesso Colombo, ex della Contesa, due stagioni fa, appunto, nella Virtus Francavilla. Ci sono le prime sostituzioni, esce Palmiero, entra Cuppone 4-2-4, 4-2-3-1, che dir si voglia. Entrato anche De Sogus all'inizio del secondo tempo, lo spunto bellissimo del calciatore di proprietà del Cagliari. Il fallo di Dainara viene ammonito, calcio di rigore in favore dei Biancazzurri. Rivediamo l'ottima giocata di De Sogus, che era entrato all'inizio del secondo tempo insieme con Aloy. Aloy aveva preso il posto di Capitan Mora, che era stato ammonito. Mora, tra l'altro, salterà la partita col Taranto in quanto diffidato. Sul punto di battuta, cioè l'Escano aveva sbagliato tre giorni fa e in questo caso, invece, non perdona Avella, che battezza un angolo, il tiro centrale, spiazzato il portiere della Virtus Francavilla, 63esimo. Si riapre il match con il rigore trasformato da l'Escano e l'ottavo gol in questa stagione per l'attaccante Italo-Argentino. Rivediamo l'esecuzione, tiro forte, centrale, spiazzato Avella. Ancora dal basso il numero 10, guarda il portiere, che battezza un angolo, come abbiamo detto poc'anzi. Il gol del 2-1 a corcio alle distanze. Il Pescara che ci crede, crede nella rimonta. Intanto la Virtus Francavilla fa entrare Cisco, l'ex di questa partita. Insomma, un'esperienza non fortunata a Pescara nel 2019 e 2020. Guardate qui che cosa combina. Salta il giocatore del Pescara come Birilli, poi elude l'intervento di Brosco. Il duplice intervento determinante di Pizzari sull'ex Andrea Cisco, classe 1998. Siamo alla 69esimo, 71esimo in questo momento sugli sviluppi di questa rimessa laterale. Poco reattivo il Pescara sulla seconda palla. Il colpo di tacco di Cargoselli non è irresistibile. Non trattiene il pallone Pizzari, il tap-in di Patierno, classe 91 ex Teramo dal 2012 al 2014. L'ottavo gol stagionale per il centravanti della Virtus Francavilla. Siamo al minuto 71 nel corso di questa partita. Dunque Virtus Francavilla 3, Pescara 1. E qui non è stato affatto reattivo il Pescara sugli sviluppi di un fallo laterale, soprattutto su una seconda palla. Poi Pierno è stato bravo a rimettere in mezzo il colpo di tacco di Cargoselli. Non irresistibile, non ha trattenuto Pizzari. Malissimo in questa circostanza, l'estremo difensore del Pescara. Il tap-in, ripetiamo, di Patierno. 74esimo, entrato nel frattempo anche Colai. Qui vediamo un destro da fuori di Cuppone che viene bloccato. Un tiro forte ma centrale. Nessun problema per il portiere della Virtus Francavilla Avella. C'è proprio lo spunto di Colai, il rimpallo e il gol di Cuppone. Il diagonale che non lascia scampo al portiere della Virtus Francavilla Avella. Siamo al 79esimo per Cuppone. Il quinto gol in questa stagione, entrato in corso d'opera. Al posto, lo ricordiamo, di Palmiero nel secondo tempo, quando il Pescara è passato al 4-2-4, mentre la Virtus Francavilla si è chiusa ulteriormente, passando al 5-4-1, rimpallo di Risolo, sfruttato abilmente da Cuppone. Gran diagonale, nulla da fare per il portiere della Virtus Francavilla Avella. 4 minuti di recupero, praticamente non accadrà altro, finisce così. 3-2 per la Virtus Francavilla, per il Pescara è la seconda sconfitta consecutiva, la terza in campionato, la prima lontano dal pubblico amico. Il primo momento critico della stagione.